Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Game Play Ita, oggi siamo su Paradise Lost, un gioco che non conoscevo, ma ho visto che usciva, insomma mi sono un pochino informato e mi è sembrato interessante. Non ne conoscevo il prezzo, ma ho visto che, lo sto registrando ovviamente prima dell'uscita, quindi non c'è un prezzo su Steam, ma ho visto che su GOG viene venduto a 9 euro, con un prezzo pieno di 12, e quello che ho pensato dopo averlo provato, in effetti ci sta, come prezzo ci può stare. Se vedete gli screen, vedete i trailer, quello che vi ricorda un pochino può essere uno sparatutto di stile post-apocalittico, anche se in realtà non è proprio così, non è assolutamente così, perché fondamentalmente, come dice lo sviluppatore in uno dei commenti che si trovano su Steam, questo gioco si rifà molto a quello che è il gameplay di What Remains of Eddie Finch. Vi dico subito, se siete appunto nel primo minuto del video, che il gioco non è in italiano. L'ho trovato piuttosto comprensibile, però dovete prendervi il vostro tempo e capirlo. Se vi va di vivere una storia dove camminate, esplorate questo dungeon. Interpreterete, diciamo, Simon, un ragazzo che, adesso lo scopriremo, avrà un mistero da risolvere. Cioè la guerra, la seconda guerra mondiale, non ha avuto vincitori, la Germania ha bombardato l'Europa con bombe nucleari, questo è un futuro distopico, e scopre un bunker tedesco con una città. E in questa città non ci sono più abitanti. Il suo sarà il compito di scoprire che cosa è successo leggendo documenti, camminando, attivando questa tecnologia però retrofuturistica. E come dice anche la pagina Steam, mitologia slava e appunto tecnologia retrofuturistica, un po' alla fallout. Insomma, è un gioco ricco di misteri perché questo ragazzo verrà contattato da una ragazza che forse potrà svelargli il grande mistero che andremo a vedere tra poco. Chi è l'uomo presente su una fotografia insieme alla madre. Iniziamo. All'inizio io pensavo questo gioco fosse una grande produzione, forse ingannato dal titolo. Poi provandolo mi sono reso conto della natura indie. E a quel punto mi sono domandato ma a che prezzo uscirà? Perché secondo me un gioco del genere magari portato 40-50 euro è un po' tanto, perché è un'esperienza abbastanza di nicchia. Invece poi, visto che comunque 9-12 euro ci può stare per un'esperienza del genere. Ovviamente, come vi ho già detto, i requisiti sono abbastanza alti, nel senso che dovete mandare giù il fatto che non sia in italiano e magari verrà tradotto. Non lo so. E soprattutto che si cammina tanto. Un utente ha fatto una domanda allo sviluppatore. Avete messo il personaggio che cammina piano in modo da non poter finire il gioco entro le due ore per fare il reso steam? La risposta dello sviluppatore è stata mi piace la tua inventiva. Ma no, non è così. Quindi, io ovviamente non so dirvi la durata del titolo ma cercheremo di mostrare, cercherò di mostrarvi che cosa è questo titolo senza annoiarvi troppo perché questa io lo reputo un gioco, un'esperienza da vivere. E quindi, la prima cosa che mi salta all'occhio che mi ha fatto appunto a sospettare della produzione indie è questo, che non è proprio bellissimo. Cioè, il fatto che ci sia il corpo ok, ma i passi diciamo che non sono molto ottimizzati. Però, a livello grafico, dal mio punto di vista, è uno spettacolo. sono spaventata anch'io dal buio. E vedi come lo combattiamo? Con l'accendino. Ora mamma scalderà tutto, sistemerà tutto. In pratica siamo noi, nella culla, da bambini. Nostra madre. Sarà caldo in poco tempo. A nessuno piace il freddo, vero? Forse, quando sarà grande e forte, l'inverno andrà via? Si sta, penso, ipotizzi di un inverno nucleare. Ma non c'è modo di saperlo. Dobbiamo vivere giorno per giorno. Ti ho mai detto quanto sei coraggioso? Se non l'ho fatto, non l'ho detto abbastanza, insomma. È tempo di dormire. Non sappiamo quando il freddo andrà via, quando il giorno tornerà, insomma. Sono chiusi dentro questo bunker. E ora c'è un altro salto temporale. È fatto così, questo gioco. È fatto di salti temporali, di flashback. In pratica noi stiamo camminando in questo bunker e ci tornano alla mente questi ricordi di quando nostra madre si prendeva a cuore di noi sempre in questo bunker, sempre al freddo. si può leggermente correre, ma non più di tanto. Ci sono diversi dettagli che mi fanno impazzire, tipo anche solo queste sorte di, non so se siano faretti o telecamere con i cavi che entrano nel muro. Ci sono poi queste cose da poter esaminare, vedete? Ci sono documenti da leggere. O ve li leggete direttamente lì o premete la E. mi dispiace che il morale stia continuando a scendere. Alcuni degli uomini si stanno riposando. Io sospetto che alcuni abbiano realizzato che il loro tenente sa un pochino di quello che loro fanno. Capisco che la nostra missione è top secret, ma dobbiamo essere possibilmente ben equipaggiati. Siamo l'unità, diciamo, militare della Germania. Il nostro proposito è di rimanere nell'ombra, insomma. Vabbè, c'è una montagna di armi, parlano di questo. Vedete anche come rimette via i documenti. C'è un dettaglio veramente l'escritta in tedesco. Tutto il declino. Si può esplorare tutto e, come vi dicevo, c'è tanto, tanto da leggere. Lo potete leggere direttamente da lì oppure premere la E. Vedete, non è tanto da tradurre, insomma. Però io non voglio, non voglio assolutamente andare a leggere nulla. Vi faccio vivere questa esperienza, questi primi minuti dell'esperienza. Però è bello perché comunque barcolla un pochino. non spogliererò nulla. Non è mia intenzione. Voglio solo farvi vedere la meraviglia che si prova a esplorare questo gioco, che, ripeto, non è sicuramente adatto a tutti, perché complice la lingua. Ora andremo a richiamare... Sto giocando in tempo reale, non è registrato, però, insomma, l'ho già giocato, andremo a urtare qualcosa che richiamerà qualcosa del nostro passato. Che cosa è stato? Che è successo? Va tutto bene? La nostra madre che ci chiama. Possiamo rispondere. È caduto. È caduto il rotor, mamma. Non so cosa sia il genere. È rotto? Non possiamo sistemare il generatore senza di questo. È arrivata la nostra madre. E ne abbiamo questa foto in mano. Con lei. Non preoccuparti, dovremmo averne un altro da qualche altra parte. Mamma, chi è questo? Regisce male, per quanto non sia molto espressiva la faccia. Non è nessuno. Hai capito? Non è nessuno. Questo è un ricordo che abbiamo. Ed è quello che poi ci guiderà nella nostra avventura. C'è un'altra cosa che mi fa impazzire, che è tutto quello che è impazzire nel senso buono, ovviamente. È tutto quello che è l'interazione con i pannelli. Ora vedete questo, che sembra essere un hangar di un qualche tipo, a cui manca la corrente. E allora andremo a riaccendere tutto. Ovviamente, sempre esplorando, potendo guardare alcuni oggetti. E soltanto alcuni altri, non penso, siano messi lì per caso. Ovviamente dove si va, dove c'è il pannello illuminato. E lo accendiamo. Ora vedrete una delle meccaniche. Puoi muoverti, vedete, ci muoviamo tenendo premuto il mouse, muovendo nella direzione indicata e tenendo la punta. Abbiamo acceso tutto. Sta partendo una sorta di allarme, che noi dovremmo andare a spegnere e capire quale dei due tasti. Direi che è un hangar, sarebbe engaging, credo. Quindi non dovrebbe fare nulla, ma questo lo disattiva. Abbiamo disattivato l'allarme. E ora possiamo vedere quello che c'è qua sotto. Un enorme capannone. Non sappiamo perché siamo qui, però possiamo vedere ogni minimo particolare. Scritto ovviamente in tedesco. E qua c'è una sorta di ascensore che noi andiamo ad attivare. Lo chiamiamo, arriva e poi scendiamo. Qua si può fare qualcosa. Si può dare un'occhiata. È fatto veramente, veramente bene. Perché là in fondo sembra esserci una piattaforma. E ora andiamo e tiriamo la leva. Credo che i videogiochi spesso seguano il nostro umore. E ci sono momenti in cui vogliamo buttarci in survival complicatissimi. Altre volte in semplici puzzle game come Crazy Machine, che sto giocando in questi giorni, come passatempi. E ci sono momenti in cui invece si vuole vivere delle avventure come questo. Con mistero, con esplorazione. Dove si cammina, si interagisce con tecnologia e ci si meraviglia, magari da quanto è bella la grafica o da quanto è bella l'atmosfera e le musiche. Questa è una scena molto bella perché vediamo che questo è il luogo esatto in cui nostra madre ha scattato questa fotografia, a cui è stata scattata questa fotografia, insieme a questo misterioso uomo che dovremmo capire. Chi è? Nel corso dell'avventura. E questo non è uno spoiler, ma lo leggete nella pagina Steam del gioco. Questa ragazza che poi più avanti ci contatterà potrebbe risolvere i nostri dubbi. Poi ovvio, la produzione indipendente si vede dal fatto che comunque le orme non le lasciamo. Però ci sono altri dettagli in questo titolo che veramente lasciano la bocca aperta perché comunque i riflessi, il fatto che comunque è ricco di particolari che possiamo andare a esaminare semplicemente per il gusto di farlo, per il gusto di immergersi e credere di essere noi stessi lì in quella situazione, guardandoci in giro, esaminando documenti. Qua è scritto in tedesco, non c'è modo, qui non c'è traduzione, è un giornale, semplicemente un frammento. Potremmo trovare anche magari degli oggetti, delle tazzine, degli oggetti che possiamo esaminare, ruotare e vedere, ipotizzando magari su quello che può essere successo. Qua abbiamo una valigia e la valigia potrebbe richiamare in noi qualche altro ricordo. L'apriamo. Abbiamo... Ah, questo è un bug. Ok, c'è dentro una lettera. Cara nonna, non crederai... Chi c'è sul treno con me? Greta Muller. Mi stavi suonando i suoi dischi a me? Lei è molto elegante. Vabbè, insomma, qualcuno qua... Vabbè, ho canato, io non ho più premuto, ma in realtà la valigia l'ha aperta. Piccolo baghettino. Però parliamo di una versione che non è ancora uscita. Si vede che non è altissimo il protagonista da come si rampica sulle scale. Qua possiamo esplorare. Il treno. E qua si trovano documenti. Si può trovare qualcosina da accendere, insomma. Ha tutti i coloni. Siete avvisati che sarà permessa solo una valigia a persona nel Gesell Schacht. Ok. Le S e S, insomma, impongono questa cosa. Solo una valigia a persona. Però, ci sono le valigie e non ci sono le persone. lì sembra essere l'apertura di un volt, insomma, un'enorme porta blindata. Comunque, siamo su questo treno che sembra non avere più alcuna persona a bordo e sembra essere dismesso da tempo. Insomma, noi siamo arrivati da lì, procediamo sull'altro. E questa volta cerchiamo... vedete anche il contenuto di tutte le valigie. Questa cercheremo di apparirla correttamente. Così. E qua, un altro flashback. Me ne sto andando, mi stai sentendo? Non mi fermerai. Non voglio spendere tutta la mia vita qui. E' stufo di stare in questo bunker. Si sente un... un tonfo e la mamma è caduta. E scopriremo anche che... che cosa è successo alla nostra madre, magari. Come vedete, qua c'è un altro documento da leggere. Un altro scritto. Vediamo di che si tratta. Mr. Buck Huber. Le sto scrivendo perché ho un favore da chiedere. Io capisco che questo non è più il luogo per intervenire. Mi concederà questo favore anche se non dovrebbe. In ogni caso sono sicuro che la prima cosa che... ho dovuto leggere velocemente senza tradurre letteralmente per capire nel senso. In pratica gli sta chiedendo una cosa assurda di... lui vuole abbattere un albero ma di rimuovere un nido di animali. Quello che ho capito. Insomma, ho letto velocemente. Però diciamo che io sono in un periodo in cui ho comunque la volontà di tradurre, di leggere, di capire perché questo non può fare altro che aumentare la mia conoscenza e il crearmi meno problemi a giocare i giochi in inglese. Questa è la mia mentalità attualmente. Quindi, io ve l'ho detto prima, insomma, se vi va di giocarlo è un gioco veramente figo però sappiate che se lo volete in italiano bisogna sperare che qualcuno lo traduca. Insomma, qua c'è una leva da tirare e qua stiamo andando verso veramente un meccanismo che mi ha affascinato. Vi ho affascinato veramente tanto perché guardate che mega piattaforma c'è qua. Abbiamo superato la stazione dei treni. In pratica ora stiamo attivando questa piattaforma che così a occhio dovrebbe permettere di caricare i vagoni e portarli di sotto lungo quella infinita discesa. Mette anche le decorazioni sui treni. Il fatto che siano qua da molto tempo si capisce dalla ruggine da quello che c'è. Allora andiamo avanti vediamo un attimo che cosa c'è da fare. Intanto vedete che qua i meccanismi funzionano sono pronti quindi dobbiamo dargli l'ok e vedete qua c'è il binario che permette di caricare parte del treno e di portarlo di sotto. Ci sono anche dei pezzi di ghiaccio che si sono staccati e tutto congelato e tiriamo la leva la leva la tiriamo in questo caso avanti. Ci dobbiamo mettere qui e la tiriamo in questo caso a destra cioè in avanti la piattaforma si attiva e ci porta giù anche a una discreta velocità devo dire quindi stiamo lasciando tutto quel capannone andando verso l'ignoto verso questa parte qua è una struttura immensa e mi ha stupito per questo perché ho proprio pensato ma chissà dov'è sto posto chissà come lo hanno costruito la cosa che non capisco che non sono ancora riuscito a capire è se tutto questo è sotterraneo o meno ma mi sa di sì perché quello non è il cielo è solo una una nebbiolina ma in realtà ci sono queste colonne di ghiaccio o di pietra che tengono su questa enorme caverna intanto stiamo arrivando e qua ci sono dei treni ammassati e ci sono anche delle statue a forma di uomo e quella che sembra essere una torre di controllo il mistero aumenta siamo arrivati e tutto si apre e andiamo avanti sì non credo sia il cielo quello però c'è c'è una luce c'è qualcosa e ora dobbiamo scendere sotto a covacciarci senza guanti senza niente attraversare questo vagone deragliato e vediamo che su quel vagone di legno c'è scritto qualcosa ci sono delle sbarre delle inferiate quindi magari del bestiame magari qualche prigioniero se non ero dovrebbe avere 12 anni il protagonista qua c'è qualcosa di registrato in lingua slava presumo non mi pare russo e qua invece abbiamo un giaciglio un rossetto qualcosa da esaminare vedete che possiamo ruotarlo e dargli un'occhiata e poi rimetterlo al suo posto ok c'è una porta devo ancora capire bene come si fa a mettersi davanti ok quando diventa di questo colore qua ok quando compare il puntino è interagibile ok stiamo cercando di attraversare ok e abbiamo un altro flashback abbiamo una maschera ricorda anche un po' Sernoby Light per alcune cose qua vediamo che siamo appena usciti da questo posto quindi c'era questa botola e qua siamo in superficie perché c'è il vento c'è il gelo che si percepisce tutto ghiacciato bellissimo e stiamo avanzando verso questo piccolo villaggetto con queste questi campanili un po' ok no adesso siamo tornati alla realtà quindi non sappiamo che cosa è successo intanto vedete anche in dettagli questi tubi ghiacciati qua stiamo andando verso un nuovo luogo quella che sembra essere non lo so una stazione 1 la c'è un enorme statua come abbiamo visto e qua mi ricorda tanti altri giochi tra cui anche Bioshock come tipo di ambientazione ovviamente oltre che Wolfenstein ma su tutti un Bioshock Infinite me lo ricorda o anche un Dishonored come stile non non leggo documenti perché ovviamente ribadisco ora che siamo in conclusione se non amate leggere volete l'azione giocate ad alto a metro la serie metro ecco ricorda tantissimo la serie metro dove però si spara più che camminare si spara si craftano le munizioni insomma quindi se invece amate scoprire e non avete problemi a magari perdere un po' di tempo a tradurre dei documenti questo Paradise Lost può essere il gioco che fa per voi abbiamo fatto il giro e non abbiamo trovato nulla sembra essere tutto crollato qua anche bello anche gli effetti flare sullo schermo qua c'è qualcosa sembra essere una sorta di autorizzazione per entrare insomma una console ma non c'è energia non possiamo interagirci quindi dovremmo trovare il modo di attivarlo ci sono anche i poster benvenuti però è totalmente allora si capisce che è una grotta ma si vede qualcosa di di comunque rigoglioso di verde non di di ghiacciato come ora ma dove sono finiti tutti questa sarà la domanda che ci faremo nel corso di tutta questa avventura ragazzi io non vado oltre perché qua c'è un altro documento da leggere bisognerà capire un attimo come riaccendere tutto insomma come andare avanti ma questo sembra solo uno schedario quindi dovrò esplorare un pochino qua c'è la bandiera tedesca insomma fatemi sapere che cosa ne pensate mentre apriamo l'ultima valigia del gioco di questo gameplay troviamo un documento che possiamo esaminare ma non è nulla di l'abbiamo preso l'abbiamo preso abbiamo preso è una sorta di di tessera qua abbiamo scusate ma non riesco a smettere questo sembra essere un elenco di cose da prendere una valigia per persona con tutto quello che c'è all'interno però abbiamo questa tessera vedete che abbiamo in mano che forse ci farà passare da lì si no non ci ha permesso passare dovremmo capire dovremmo trovarne un'altra ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate commento qua sotto e noi ci vediamo il prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao